Sono Paola e sono proprietaria dell'azienda Le Miccine. Il mio ruolo nell'azienda è proprio il tutto fare alla fine, perché sono proprietaria, ma sono anche enologa, e mi occupo sia della vigna che anche del commerciale. Dunque, proprio da grappolo d'uva fino alla commercializzazione della bottiglia, me ne occupo di tutto io. Le mie origini assolutamente hanno influenzato la mia maniera di lavorare. La mamma ha origini italiane, babbo scozzese, io nata in Canada, e dunque i nostri vini rispecchiano la nostra multiculturalità. Bellezza è incredibile, il territorio, le vigne, i boschi, i colori sono incredibili. Mi sento circondata da bellezza continuamente, e questa è una cosa che onestamente ti fa sentire vivo. Nel vino nostro, delle Miccine, le persone devono sentire un'identità, sentire proprio il lavoro che c'è dietro, poi proprio questa espressione di persone, amore e territorio.